Il Popolo della Famiglia ha presentato alla Corte di Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione del reddito di maternità. La legge prevede un reddito di 1000 euro mensili per le donne che si dedicano in via esclusiva alla famiglia e alla cura dei figli. Fabio Colagrande ha sentito Mario Adinofi, Presidente del Popolo della Famiglia. La proposta di legge nasce dalla necessità di mettere al centro il ruolo della donna madre. Una donna madre che in questo momento è la risposta alla principale piaga italiana che è la denatalità. Allora abbiamo immaginato una indennità di maternità di 1000 euro al mese per le donne che vorranno dedicarsi esclusivamente alla cura della famiglia e dei figli. Lo abbiamo fatto attraverso lo strumento garantito dalla Costituzione della proposta di legge di iniziativa popolare. Adesso andremo nelle piazze italiane a raccogliere almeno 50.000 firme per presentarla in Parlamento.